Loro sono Erin col fiocco arancione e Pam con il fiocco giallo. Sono due miste maremmanine, di una cucciolata i fratellini sono stati tutti adottati e sono rimaste solo loro due, che nessuno però per il momento vuole. Come mai? Le più belle? Le più belle. Le più belle, le uniche femminucce della cucciolata. Vero? Stupende, diventeranno belle grandi. Quindi, veramente, sono belle, sono maremmane, diciamo, misto maremmane, ma hanno anche qualcosa del labrador, un misto, diciamo, labrador maremmane, sì. Ma vedi Erin. Erin è stupenda. Sì, è la più cocorona. Ma anche Pam, è più timida, più riservata. Ma è dolcissima, vedi quanto è dolce, vedi? Sì, sì, tutte e due bellissime. Speriamo che partano presto. Sì, speriamo, perché è un vero peccato che diventino grande qui in Canile. Veramente un peccato, perché questa è l'età giusta per essere adottati. Sono cucciolotte, quindi possono benissimo adattarsi ai gatti, per chi ne ha, a qualsiasi animale. Giusta. Salutiamo Giussi. Ciao, ciao Pam. Erin, mi saluti anche tu. Ciao Erin, saluta. Fai ciao ciao con la zampina. Ciao ciao. Ciao. Speriamo bene, speriamo bene.